Siete Ninja? Benvenuti in questo nuovissimo video di StumbleGuys Oggi siamo qui per riscattare i nuovissimi premi, novità, altre cose, premi gratis Andiamo! Iniziamo subito con la ruota e la fortuna Vediamo che ci capita, voi lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campbellina E vi ricordo una cosa, ho aperto i provini per il mio team ufficiale di StumbleGuys Ma anche di altri gioi comunque, tipo, non lo so, un Browstar o qualcosa del genere C'è il team NJ, appunto, infatti vedete che NJ Ninja, poi abbiamo NJ Roberta, Ita, abbiamo altri già NJ che comunque erano là E appunto, allora, io direi di allargare il nostro team E appunto, passate nel canale di Colp, che io vi lascio come sempre nel primo commento Per andare a, insomma, fare il provino per questo team NJ Lui si occuperà di tutto, quindi lui mi verrà solo a dire se voi siete stati qualificati o meno Se siete qualificati, giocate contro gli due ovviamente Se siete dentro, dovete giusto cambiarvi il nome, mettere NJ e poi magari richiedermi l'amicizia E vi dico una cosa, dovrò levare certe amicizie Perché sono arrivato al limite e quindi cercherò di far rimanere solo chi ha il tag NJ nella mia lista amici Per una questione di correttezza, perché no, insomma, uno sta nel team NJ e non c'è la mia amicizia Non è possibile Quindi inizierò a levare quelli meno attivi, come ti posso dire Se uno non apre Stambolgast da un anno, allora magari leverò l'amicizia Ma non per cattiveria, per lasciare spazio a chi sta nel mio team, tutto qua Quindi se volete, andate a chiedere a Colp, insomma, il provino Non perché voglio che vi mettete il tag NJ nel nome Ma semplicemente per dare spazio a chi sta nel team Quindi nulla, direi di iniziare, gattolamento grottoso Andiamo a vedere un pochino che ci capita Caricamento successivo, che ci capiterà mai Voi appunto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina E... eh, super slide, super, vabbè, vabbè, super slide Allora, cerchiamo di farla bene Poi farò tanti video comunque con i membri dell'NJ Non vi preoccupate, inventeremo cose E faremo tante cose insieme, anche fuori dal Stambol Guys Comunque, chi è NJ ha anche dei vantaggi, diciamo, dentro il mio canale E... allora, l'NJ di Jugolis Eccoci qua E... eh, non ci siamo, non ci siamo Eh, dicevo eccoci, invece non ci siamo Allora, no, 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 uu, 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 uu Non va il salto, non so, oggi è strano, ragazzi, vi giuro O lagga Che pink è 51, quindi non mi meraviglio Però posso dire che questa qua è deficienza Cioè, va bene che lagga Però è proprio deficienza questa qua, eh, vabbè Cioè, va bene tutto, ma questa è deficienza Allora, eh, vabbè, tanto non ci qualifichiamo Quindi va benissimo così No, però Ora ci alleniamo su super slide Ora apro super slide Faccio così, guardate Guardate cosa faccio Faccio uno gruppo Faccio partite personalizzate Faccio tu, 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 tu Eh, eliminiamo tutto Aspetta, eh Aspetta Un, due, tre, quattro, cinque, sei Perfetto, allora facciamo Rimuovi tutto E poi ci andiamo a mettere super slide qua Eh, seleziona, rimuovi tutto E ci andiamo a mettere super slide di qua Seleziona, rimuovi tutto E ci andiamo a mettere anche super slide di qua E io direi di iniziare Allora, stamboli da Va bene Allora, io direi di Attendere questi giocatori E poi Iniziare la partita In modo tale No, dai, sai Eh, bene Ecco Allora Andiamo un attimo a battere Super slide Dobbiamo essere forti Dobbiamo battere gli altri Perché super slide deve essere Il nostro pezzo forte Quindi ragazzi Mi raccomando Eh, provateci pure Io dico a entrare nel team EJ Poi magari siete scarsi Non vi sottovalutate Perché Potete entrare Non vi preoccupate Non vi sottovalutate mai Voi chiedete sempre E Magari, no Sai Ci riprovate Prima magari vi allenate un pochino Siete pronti per il giorno E Insomma Entrate, no Che è sempre una cosa bella Avervi Nel team EJ Ok Appunto inizierò a accettare l'amicizia Solo con quella Il tag NJ Mi dispiace ragazzi però Se Stambul non aveva limiti di amicizia Io accettavo a tutti Però purtroppo Ai limiti Cioè neanche Roblox dice 200 No, questo qua c'è a 50 Quindi Ragazzi Io purtroppo Non ci posso fare nulla Quindi Eh, bene Allora 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 No, no È il salto Sbaglio Ok Allora Eh, devo Devo vedere bene quel salto Perché lo sbaglio Allora Uno Vai di qua Perché? Perché mi scivola? Vabbè Questa è deficienza Questa ragazzi È pura deficienza Questa Allora Così 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 Ora Non mi scivola Perfetto Perfetto Ora Io direi di azzardare Eh Infatti Faccio male ad azzardare Ragazzi è vero che faccio male ad azzardare Certe volte Allora 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 Aia Ecco qua Allora Vabbè Vabbè Andiamo a prendere Però io Come poi ho fatto I meneggiare Insomma Con il gioco Dai scherzo Allora Dai Gettone di Beast Speriamo ci capiti qualcosa di bello Li andiamo a fare Voglio sbloccare il pingui mate Allora Ruota Beast Vediamo che ci capita Vi prego Vi prego Qualcosa di bello Il pingui mate 4 del pingui mate Ragazzi 32 su 35 Eh Ce ne manca un altro Ci manca un altro Il pingui mate È fra le nostre mani Perfetto Ninja Allora Ci andiamo a fare una partita Sui scarambe E poi concludiamo Allora Come Ah Allora Block dash Ma come Ma 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 come Ah vero Io non ho ancora fatto Vero 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 Comunque Cos'è Block dash Leggendario Ragazzi Cos'è Mi sono perso qualcosa Block dash Leggendario Allora dai Ti prego Le 5 gem Tanto è impossibile Che mi fai capitare La leggenda E tasche Guarda Fin troppo bene Ragazzi Fin troppo bene Eh Ruota classica Dai Speriamo un pochino Che ci capita qualcosa di bello Ti prego No Le 5 gem La rara almeno È un gettono Vabbè Allora Abbiamo Non possiamo far nulla Eh Ai scaramba Non lo possiamo fare Allora andiamo Su gattolamento grottoso Mi sembra la cosa più logica No ragazzi Successivo Che ci capiterà mai È qualcosa di bello Jungle roll Ho detto Qualcosa di bello Invece ci capita Jungle roll Mi va benissimo Così Allora 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 Energy Julis Eccomi qua Partiamo Allora Eccoci qua Siamo noi NJ Eccoci qua Tra la lero Tra la la Allora 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 Via Ok 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 Così Vabbè Va benissimo Eccoci qua Allora Io direi di andare Velocemente A qualificarci In modo che Vinciamo Noi comunque Ragazzi Stai ridendo E scherzando Noi su stumble guys Quest'estate abbiamo Farmato tanto Eh Oh No Tu no No Oh Come ti permette Allora Allora Noi appunto Sto dicendo ridendo E scherzando Su stumble guys Quest'estate abbiamo Farmato un sacco Ragazzi Stata l'estate Guys Anche se diciamo Era passata Sì No Io volevo portare Qualificare Quei due Invece no Era passata Un attimo Di moda Stavo dicendo E E appunto Noi l'abbiamo Riportato Di moda Quindi Insomma E' stata Una bella estate E Poi Inizieremo Con giochi Roblox Minecraft Ma stumble guys Ragazzi Comunque Non mancherà Speriamo di farci Allo super slide Stumble guys Dicevo Comunque Ragazzi Non ve lo farò mancare Quindi Preparatevi A video di stumble guys Non vi preoccupate Non vi preoccupate Poi ovviamente Il programma è tutto da vedere Ragazzi Io non so Se riusci Io farò di tutto Per portare un video Al giorno Che bello Ho preso lo sprint Ma Se non ci riesco Purtroppo Ne farò uscire Ogni due giorni Massimo ogni tre giorni Però Comunque ragazzi Questa qua Era una cosa Che vi avevo già detto In passato Ma poi Alla fine Vedete che comunque Sono sempre riuscito A stare nel programma Del video al giorno Quindi Ne dubito Che non riuscirò A portare un video al giorno Però ragazzi Insomma Sempre meglio avvertirvi In modo che Nel caso Voi sapete Allora Uno così L'altro così Perfetto Ai 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 Già si stanno Qualificando Ma dove scappate Ma dove scappate Siete su 8 Oh Eh 8 su 8 Eh lo so ragazzi Lo so Brutta storia Brutta storia Bruttissima storia Ninja Io direi che il video Di oggi Lo posso anche concludere qui Spero che vi sia piaciuto Voi lasciate un like Iscrivetevi al canale Attivando la campanella Mi raccomando Supportatevi Domani ci prendiamo Giorni di pista Supportatevi Con un bel like E con un'iscrizione al canale Noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao Ciao